Eccomi qui anche oggi con le traduzioni, guardate quanta roba per raccontarvi cosa è successo nel main event di Smackdown, cronologia americana, là dove si è consumato l'ultimo aperitivo prima della guerra civile della Bloodline, che andrà in scena questa sera a Money in the Bank e c'è un orario molto favorevole per noi fan europei, quindi se vi interessa seguire l'evento in live reaction con me e il team che mi dà una mano, vi aspetto dalle 20 in poi su Twitch, trovate il link del mio profilo in descrizione al video, mi raccomando eh, sarà un modo per goderci lo show, ognuno a casa sua sul WWE Network, ma in un salotto virtuale che ci unisce sotto l'ombrello della stessa passione, ma ora andiamo a quello che è successo nello show blu, e il main event si apre con Roman Reigns, solo si coa e Paul Heyman nella ring, ed è proprio Roman a prendere la parola e dice Londra, riconoscimi come numero uno. Per molto tempo, da circa due anni, ho permesso alla Bloodline e ai miei cugini di venire qui a dire siamo i numeri uno, ma la verità è che non lo siamo, io lo sono e sono l'unico. E so che molti di voi staranno pensando, oh mio Dio, questo tipo è arrogante, è narcisista, ma vi sbagliate, io sono il migliore, il più grande di sempre, il capotavola, io sono il capotribù. È vero, e oltre a questo sono anche l'unico a tenere ai miei cugini. Io sono l'unico che ama gli Usos, io sono l'unico che gli ha dato un'opportunità dopo l'altra, e sono l'unico che gli ha svegliati e gli ha portati nella terra promessa. Il pubblico qui non gradisce l'interpretazione di Roman e i tifosi iniziano a cantargli Roman Sachs. Reigns li ascolta, li sente e risponde, no no, vi dico io cosa fa schifo, ed è un familiare che ti tradisce, ecco cosa fa schifo. E la cosa più importante di tutte è che io sono l'unico di questa famiglia che vuole dare loro una seconda opportunità. Lo faccio spesso in qualità di padre dei miei figli, e quando sbagliano qualcosa io gli do una seconda chance, e poi una terza e una quarta, perché è ciò che fa un bravo papà. E come buon capo tribù io sono pronto a dare ai miei cugini un numero infinito di nuove opportunità. Ma quello che devono fare è venire qui, inginocchiarsi, riconoscermi come numero uno, scusarsi e rimettersi in riga. Beh, richieste di un certo livello da parte di Roman Reigns. E Jimmy e Jay alla fine decidono di presentarsi. Il primo a parlare è Jimmy che dice, ehi, credo che nostro cugino stia mistificando la realtà. Credi davvero che noi vogliamo tornare nella bloodline? Diciamo la verità, zio, siamo oltre al sottometterci, siamo oltre allo scusarci. Ora, zio, siamo già alle conseguenze. E la famiglia ne sta parlando, vero Jay? E Jay, è così? Jimmy, sì, e ci si chiede cosa accadrà se tu dovessi perdere. Jay, cosa accadrà se dovessi perdere, zio? Ehi, quando lo hanno schienato? L'ultima volta? Jimmy, tre anni fa. Jay, e quando lo sarà? La prossima volta? Jimmy, domani sera. Jay, domani sera. Ehi, domani sera sarà una guerra a Money in the Bank, zio. E quando perderai, sarai l'unico ad essere fuori. Proprio così, dopo che avrai perso, non sarai più il capo tribù. Ma io non desidero quel ruolo. E Jimmy? Jimmy risponde, che c'è? Jay, vuoi essere tu il capo tribù? Jimmy, proprio no. Jay, ehi, ehi, Jay, ma conosco qualcuno che sembra perfetto per quella posizione. E Jimmy aggiunge, sì. E anche se ora sta dalla parte sbagliata, Jay, quella del torto, Jimmy, ma lo sta capendo, Jay, e anche alla svelta, Jimmy, lui al mio voto. Jay, eppure il mio. Ora, questa parte l'ho molto adattata, perché gli Usos hanno iniziato a parlare con lo slang loro mezzo americano e non c'era una traduzione esatta che suonasse bene in italiano. Però è chiaro che si stanno riferendo a solo Sicoa. E il pubblico lo capisce, lo comprende e iniziano i tifosi a cantare per lui. Sicoa ne sembra compiaciuto. C'è proprio uno stacco di telecamera che ce lo fa vedere pensieroso, come a dire quel ruolo lì mi piacerebbe, lo accetterei. E Roman inizialmente si mette a ridere, poi la faccia, la testa si volta, comprende che solo Sicoa ha dei dubbi o che la sua lealtà potrebbe venire meno e allora cambia radicalmente il suo contegno e sui connotati del capo tribù compare una severa preoccupazione. Tanto che Roman, quasi balbettando, risponde, ma 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 chiudete la bocca! Come osate parlarmi in questo modo, eh? Pensate, pensate che sia tutto un gioco? Dopo aver detto questo, si avvicina agli Usos con Jay che sale sull'epron ring e i due litigano fuori microfono. Ma noi riusciamo a capire quello che si stanno dicendo, soprattutto Roman che è arrabbiatissimo e plateale e al cugino continua a sbraitare contro che non è niente senza di lui. I tifosi sostengono gli Usos, ma Roman ribadisce che i fan non li hanno davvero a cuore, a differenza sua. Ma Jay ne ha le tanniche piene, non crede più a queste parole, e lo allontana con una manata. E quando Roman si volta, ecco qua, gli arriva in faccia un super calcio da parte di Jimmy. Boom! Una fucilata. Ed è così che scatta il rissone totale, con solo Sikoa, che difende il capo tribù. La guerra civile della Bloodline, insomma, è iniziata, mentre la Zuffa non ha dei vincitori chiari, almeno non inizialmente, visto che intervengono i dirigenti e gli addetti alla sicurezza, con molti di questi ultimi che vengono stesi dai protagonisti della battaglia. Qui, ad esempio, ne vediamo uno che si sta beccando un super calcio. L'ultima azione che la WWE ci propone è questa qua. È Jay, che con un tuffo dall'interno del ring, stende Roman e Sikoa all'esterno del campo di battaglia. Quindi c'è un mezzo sorriso per gli Usos, ma poi il collegamento si interrompe. Vediamo Roman, il capo tribù a terra, dopo questa caduta parecchio dolorosa, ma non c'è altro. Il sito WWE però ci offre questa immagine, registrata, scattata in questo caso, una volta che lo show è terminato con gli Usos, che hanno preso possesso del ring, festeggiando con i fan londinesi ed europei. E questo è quanto. Si è piantato un seme importante. Quello della possibile insurrezione di solo Sikoa. Un ammutinamento che adesso sembra lontano, ma chissà, di fronte magari ad un errore di valutazione del capo tribù, potrebbe germogliare. Anche perché Jimmy e Jay sono stati chiari. Se ci fosse una votazione democratica, per loro sarebbe solo il nuovo capo del clan Samoano. Come andrà a finire la storia? Beh, lo scopriremo stasera con Money in the Bank. E io vi ribadisco, l'invito, se vi va, dalle 20, facciamo un'ora di pre-show, a seguirlo. Beh, ovviamente in maniera legale sul WWE Network, ma anche in live reaction su Twitch, insieme ai miei collaboratori, gli aziendalisti e al sottoscritto. E con questo ho terminato, ma ora la palla passa nel vostro campo. Qui sotto nei commenti potete scrivermi che emozioni vi ha dato questa vicenda e magari su chi puntereste i vostri 50 centesimi, azzardando un pronostico tra le due squadre che si daranno appunto battaglia a Money in the Bank. Voi scommettereste su Roman e Solo, oppure su Jimmy e Jay? Forza dita roventi, lasciate un mi piace al video, se potete condividetelo e condividete anche le vostre opinioni al riguardo.